In occasione del Brescia Photo Festival, promosso dal Comune di Brescia e da Fondazione Brescia Musei, la Galleria dell'Incisione presenta una mostra di Pierluigi Fresia, la velocità della luce, curata da Elio Grazioli. Pierluigi Fresia vive e lavora nel torinese, sempre riconducibile al concettuale, la sua ricerca ha impiegato diversi media, la pittura e successivamente il video e la fotografia, includendo spesso l'uso della parola. L'originalità della soluzione individuata da Fresia, scrive Grazioli nella presentazione della mostra, è quella di aver messo in relazione immagine fotografica e parola in un modo diverso da quanto visto finora. Fresia lo ha saputo portare a un punto particolare in cui le parole, le brevi frasi, sembrano nascere insieme all'immagine, come un pensiero che scaturisce davanti a ciò che l'artista vedeva in quel momento, e che ora vediamo noi. Lo scatto fotografico diventa così uno scatto di immagine e pensiero al contempo. Ancora una volta ci si permetterà il gioco sull'etimologia della parola fotografia, che è proprio scrittura di luce, qui dunque in un senso che unisce la scrittura verbale a quella della luce. D'altro canto, al centro dell'insieme che ha selezionato per questa mostra, si noterà che Fresia ha messo un nucleo che riporta come testo la velocità della luce, che da questo punto di vista diventa anche la misura della simultaneità di visione e pensiero. Grazie a tutti.